ciao a tutti oggi facciamo delle carinissime forme delle immagini con i quadretti vi ricordate questo quaderno è il nostro quaderno delle dei quadretti sono quadretti di quelli grandi anche se da qua non si nota molto sono grandi oggi faremo dei costumini una suoia per il mare una canoa e un castello di sabbia cominciamo allora dobbiamo fare una linea con sei quadrati due quattro sei poi facciamo un quadretto così a destra due a scendere due laterali due a salire uno a destra e scendiamo fino ai quadretti che abbiamo fatto prima quindi sei quadretti adesso scendiamo di due di uno e mezzo anzi uno e mezzo qui facciamo una linea a metà e tiriamo su incrociando in con unendo queste due linee adesso possiamo fare un bel sole e il mare poi c'è anche una versione per bimbi quindi facciamo quattro una linea con quattro quadrati quadretti poi qua in alto a destra due quattro cinque e scendiamo poi da qui partiamo due saliamo di uno andiamo a destra di uno scendiamo di uno e uniamo questi sono i nostri costumini qui facciamo un laccetto possiamo fare anche il mare qui adesso facciamo la stuoia per il mare quindi facciamo una linea di otto quadratini due quattro sei otto e andiamo a destra di cinque due quattro cinque idem la parte sotto due quattro cinque e uniamo facciamo un rettangolo lasciamo libero un quadratino e saliamo per fare questa striscia idem qui lasciamo sempre un quadratino da da su facciamo le frange ci divertiamo adesso facciamo una bellissima canoa facciamo una linea di otto quadratini otto quadratini quindi 24 68 poi stacchiamo di 3 1 2 3 e andiamo qui sotto dopo 3 1 2 3 qui sotto stessa cosa qui 1 2 3 1 2 3 qui sotto e uniamo queste parti 1 e 2 lasciamo di 2 e facciamo di nuovo una linea di 8 2 2 4 6 8 e uniamo questa punta così lasciamo 3 1 2 3 e qui facciamo questa linea così lasciamo di 2 2 1 2 facciamo così poi scendiamo di uno d'acqua e d'acqua e uniamo adesso da qui a qui e uniamo così adesso facciamo lasciamo di uno libero e facciamo così e così poi saliamo di uno andiamo sul sul costumino uno e uno e chiudiamo stessa cosa facciamo una linea così che sarebbe il remo e facciamo questo saliamo di uno saliamo di uno di qua e chiudiamo e questo è il nostro remo quindi due costumini una stuoia una canoa e adesso facciamo il castello quindi faremo una linea di 15 quindi allora 2 4 6 8 10 12 14 15 e saliamo di 6 1 per adesso non scriviamo non facciamo le linee 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 partiamo da qua la stessa cosa facciamo di qua lasciamo 1 libero e saliamo di 6 uniamo questa punta con questa idem questa con questa e facciamo ci spostiamo a destra di 1 scendiamo di 1 ci spostiamo a destra di 1 saliamo di 1 ci spostiamo a destra di 1 e scendiamo giù idem da qua al contrario sinistra di 1 scendiamo di 1 sinistra di 1 alziamo di 1 sinistra di 1 e scendiamo di 1 e scendiamo adesso lasciamo 1 da qua facciamo così e adesso da qui sale una torre saliamo di 1 saliamo di 2 laterale di 1 scendiamo di 1 laterale destra di 1 saliamo laterale scendiamo laterale saliamo laterale scendiamo tutto questo è il nostro castello vi sono piaciuti questi disegnini spero tanto di si ne seguiranno altri faremo degli animali faremo tante altre cose carine se vi piacerà questo è un video molto estivo preferisco fare in quest'estate dei video così leggeri tranquilli per imparare divertendosi vi aspetto alla prossima ciao a tutti